Sì, noi è una parola importante, racchiude la forza dello stare insieme, dell'unione, è un momento molto particolare per l'Italia, per il mondo, per cui aiutarsi e darsi una mano e stare insieme, aiutare chi ha bisogno è importante. Noi dà proprio questa immagine, è una parola molto corta, ma forte. Rispetto al passato, quali sono le novità che segnano un po' questa tua quarta rinascita? Le novità? Ho cambiato casa escografica, l'agenzia che mi fa il tuo, ho una figlia giovane, una compagna giovane, per cui sono ripartito alla grande, speriamo di tenere questo ritmo perché è comunque importante, ma tenerlo. Vecchie canzoni, grandi successi, ma anche canzoni nuove, che segnano una scaletta che poi ha fatto sì che per il momento il tour abbia segnato il tutto esaurito. Come l'avete costruita? Come avete messo insieme brani che poi costituiscono le due ore oltre di spettacolo? Abbiamo tolto tante canzoni importanti, purtroppo, ma ho preso quelle, diciamo, altrettanto importanti che hanno fatto la storia della mia carriera, per cui ho preso un po' di quelle e un po' di quelle nuove che sono state molto apprezzate nell'ultimo disco, per cui non è stato così facile, perché dovrei fare almeno quattro ore di spettacolo con le canzoni che ho, ma è buono, è un segno positivo. Una...